Questo premio e questo riconoscimento non sia un riconoscimento solo ed esclusivamente mio dell'Osteria Francescana. Sicuramente la mia squadra ha un ruolo straordinario perché siamo un team di ragazzi appassionati, siamo 43 per servire 28 persone ogni giorno, ma sia un riconoscimento per tutta l'Italia. Io lo sostengo da anni. E poi la cultura, perché i nostri piatti guardano il passato in una chiave critica e non nostalgica. Tanti pensano che l'Italia, l'Italia, noi siamo i migliori, all'estero non pensano questo. All'estero ci amano la follia per i nostri stili di vita, ma per riuscire a portare l'Italia nel futuro bisogna guardarla in una chiave critica e non nostalgica. E allora la lasagna della nonna deve diventare emozione. È questo che trasformiamo e che facciamo ogni giorno. Prendiamo il meglio del passato, lo spacchiamo e lo ricostruiamo in chiave contemporanea. E lo portiamo nel futuro.